dei ministeri inaugurati a Monza lo scorso weekend non si toccano. Lo ha ribadito in mattinata il leader della Lega Nord, Umberto Bossi, che ha voluto rispondere al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che nei giorni scorsi aveva espresso preoccupazione per un atto considerato non in linea con la Costituzione e con altre leggi dello Stato. Proprio oggi sono usciti i contenuti della lettera che Napolitano aveva inviato al Premier esternando gli propri dubbi in materia. E Silvio Berlusconi, uno dei ministri, questa mattina ha rivolto un pressante invito all'intera squadra di governo e ha chiesto quindi a tutti i ministri di tenere comportamenti conseguenti. Le sedi distaccate sono due guida leghista, riforma e semplificazione, di cui sono titolari Bossi e Calderoli e quello dell'economia retto da Giulio Tremonti. Ma la mossa non è piaciuta a molti esponenti PDL, a partire dal sindaco di Roma Gianni Alemanno e alla regione Lazio Renata Polverini. Umberto Bossi sembra però non preoccuparsi di proteste e malumori e al capo dello Stato manda a dire che non si preoccupi i ministeri li abbiamo fatti e li lasciamo là, ha sottolineato il ministro delle riforme aggiungendo che il decentramento non è solo una possibilità ma un'opportunità per il paese. Bossi ha anche risposto con un sì a chi gli chiedeva se il Premier oggi ha parlato della lettera del capo dello Stato durante il Consiglio dei Ministri ma non c'è stato dibattito aggiunto. Il dibattito si è invece svolto sul cardine dell'azione di governo ad impronta leghista. Infatti questa mattina è stato dato il via libera definitivo all'ottavo e ultimo decreto legislativo di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale il decreto riguardante i premi e le sanzioni per gli enti locali. Lo ha annunciato in una nota il ministro per la semplificazione Roberto Calderoli. Un decreto, si legge nel comunicato, che ha ricevuto ieri un via libera all'unanimità da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale. Il fatto che nessuno in Commissione bicamerale abbia espresso una contrarietà rappresenta un risultato importante e persino necessario trattandosi di un decreto così delicato. In virtù dell'approvazione definitiva di questo decreto, affermato Calderoli, il percorso di attuazione della riforma federalista si può quindi ritenere compiuto per la sua parte più rilevante. In questo modo il federalismo fiscale diventa una realtà nel nostro paese.